Grazie a tutti. Grazie. Dopo quattro anni, questo è il lungo tour di questo spettacolo, approviamo per la prima volta in Calabria che è la terra di Dalida e di questo sono molto molto felice. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Qui le persone che stanno fermamente, fortemente, tentando insieme a tutti gli amici, a tutti quelli che hanno amato Dalida, di riportarlo un pochino alla memoria di tutti, facendo un grande tributo a questa grande artista troppo a lungo dimenticata dai giornali, non dalla gente, dai giornali, che è Dalida. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.